Il tostapane occupa spazio ed è arrivato a capolinea, potreste essere interessati a questo gadget inventato dalla folle Colin Farts, un coltello così caldo che riesce a tostare il pane durante il taglio. Farts ha modificato il trasformatore di un forno a microonde e lo ha collegato ad un coltello da pane seghettato. Una volta che la corrente passa l'elettricità riscalda il coltello molto rapidamente al punto da farlo diventare incandescente. Una volta raggiunto il punto di calore tutto quello che dovete fare è prendere il coltello, tostare istantaneamente il pane. Bisogna ammettere che l'idea di fondo è buona, va ovviamente perfezionata. Grazie. 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 Grazie a tutti.